Ovviamente esprimiamo un cauto e prudente ottimismo sulle risultanze scientifiche dello studio effettuato dall'EFSA che sembrerebbe scongiurare un rischio sia per gli umani che per l'ambiente in termini di cancerogenicità del glifosato. Questo ci fa ben sperare, ovviamente attendiamo la conclusione delle analisi che dovrebbe avvenire a fine luglio. È la valutazione che il direttore di Confagricoltura Pistoia dà della nota pubblicata nei giorni scorsi dall'autorità europea per la sicurezza alimentare sul rischio del glifosate, erbicida più diffuso in agricoltura, la cui autorizzazione in Unione Europea sarà rinnovata o respinta a metà dicembre 2023. Secondo le valutazioni riportate dall'autorità europea, il glifosate non può essere classificato come sostanza cancerogena o mutogena, anche se vi sono comunque questioni rimaste in sospeso come rischi sulla biodiversità, la mancanza di informazioni sulla tossicità di uno dei componenti dei pesticidi a base di glifosato e un rischio elevato a lungo termine per i mammiferi per 12 dei 23 usi proposti del glifosato. Ricordiamo però, come memoria storica, che già nel 2021 l'ECA, che è l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, aveva dichiarato che il glifosato non può essere considerato cancerogeno o mutageno. Questo è un altro mattoncino che va messo nella valutazione complessiva della cosa. Il nostro centro studi stima che negli ultimi 5 anni c'è stata una riduzione di circa il 50%. Questo grazie soprattutto all'utilizzo dei pacciamanti nella vasetteria, alla lotta integrata. Una grossa mano potrà darla anche il discorso del laboratorio di analisi, Pistoia Fitolab, che sta arrivando alla fase finale della progettazione. Tutto questo va nell'ottica della prevenzione, che serve appunto per prevenire le malattie prima di doverle curare con i fitofarmaci. Questo evidenzia ovviamente la volontà, la forte spinta del vivaismo verso una sempre maggiore sostenibilità. Quando parliamo di glifosato, parliamo di criticità legata al glifosato, bisogna comunque attenersi alle valutazioni scientifiche che stanno uscendo ed essere molto prudenti sia nell'un senso che nell'altro.